Allora, sangue dal naso, bene, questo video farà forse un po' impressione a chi si impersona facilmente per il sangue io devo dire che mi impersona facilmente però sono stato forte in questa occasione per cui ecco, se così fosse, non è il video fatto per voi Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video come sicuramente avete detto dal titolo, oggi sono andato con uno story time che forse ne ho saltato uno durante i vlogmas, vabbè scusate allora, per chi mi segue su Instagram saprà che per l'ultimo giorno dell'anno, ovvero il 30 ho fatto una visitina in ospedale, perché? allora, era un po' di giorni che appunto avevo un po' di influenza, tosse, raffreddore e tutto quanto praticamente la sera del 31, del 30, dopo verso le 6 e mezza circa mi stavo pulendo il naso, adesso non ho un fazzoletto, la porta di mano, però ve lo faccio vedere con le mani praticamente questo è il fazzoletto e lo stavo facendo così, me lo stavo pulendo, non l'ho soffiato e ha cominciato a uscirmi sangue dal naso, vabbè, acqua fredda, ghiaccio sul naso, bloccato tutto a posto dopo un paio di minuti però che dopo una mezz'oretta ero seduto sul letto, tranquillo, ero col telefono e ha cominciato a uscirmi proprio a fontanella proprio e non c'era verso di farlo bloccare praticamente e quindi cosa vuoi fare? Corri in guardia medica in guardia medica mi dicono guarda, corri in ospedale, cioè proprio corri in ospedale non fermarti, vai appunto poi siamo così in ospedale, ho dovuto aspettare un'orettina prima che mi accettassero diciamo poi praticamente mi hanno fatto l'accettazione e mi hanno fatto avere le solite domande di routine diciamo e da lì appunto prima non ho medicato e vi giuro in quel momento ho provato il dolore più forte della mia vita perché praticamente mi fa ti dovrò fare una manovra poco simpatica cavolo sarà mai praticamente appunto hanno preso un tampone me l'hanno infilato su per il naso era tipo tanto così di tampone all'incirca più o meno su per il naso giuro in quel momento avrei voluto morire ho provato veramente il dolore più forte di tutta la mia vita e poi praticamente perché tutto è partito da una siringa e mi fa pensare che dovessi pungere te e invece praticamente dopo avermi infilato sto tampone su per il naso praticamente mi ha punto praticamente il tampone con un anticoagulante solo che mi sa che è andato troppo in profondità e mi ha unzecchiato anche il naso vabbè dettagli quello era il mio ultimo pensiero in quel momento aspetto due ore che appunto che mi visitassero un'altra volta dopo due ore mi fanno guarda puoi anche andare a casa levatelo tu la mattina dopo io non vi dico il fastidio durante la notte non ho dormito niente niente non ho dormito anche perché ero immobile praticamente seduto con sto coso su per il naso che non riuscivo a respirare dal naso e quindi dovevo respirare inevitabilmente dalla bocca un fastidio atroce la mattina dopo l'ho tolto sperando che non uscisse più sangue perché insomma mi hanno detto che sarei dovuto correre ancora in ospedale per farmi chiudere l'arteria panico! quindi ovviamente la mattina mio papà mi era tolto tutto ok solo che non vi dico poi il dilemma il patema che avevo nel soffiarmi il naso vabbè per tipo due giorni non me lo sono soffiato e niente qualche giorno dopo però sto naso la contava a perdere quindi beh non so al mio naso che cosa abbia sinceramente niente ragazzi questa era un po' la storia che è successa l'ho raccontata un po' in una instagram stories però ecco ho pensato appunto di farci un video per spiegarvi bene quello che era successo anche perché non è successo niente di grave ecco però comunque ci tenevo a raccontarvelo per rendervi partecipanti di questa mia disavventura e niente ragazzi io direvi che spero che questo video vi sia piaciuto forse un po' una presa per il culo voi comunque ragazzi lasciate un mi piace per il coraggio giù nell'info box come sempre trovate il link a tuoi social a cui sono iscritto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti